Allora Quanto? Oh! Se ci sono venne a ricogliere un cacchio è tutto rotto Non l'ho capito Cacchio a fare dove? Non c'è per ora Ascolta, se ci sono venne a prendere un cacchio da che è tutto scannato E non ci può andare nessuno a Moncia? Perchè me lo sanno andare a lavorare Eh, ci vuoi cercare la cacchio? Lo rompiamo tutto per travesta Questa è tutto rotto Congruzziamoci la partenza Ah, va bene Domani, domani Domani più di 200 dobbiamo farne Lo sa per il discorso che è di più Va bene Erano 60 euro Quindi già sono 60 euro E 90, 90 E 69 sono 200 202, 205 E là Vabbè, io ho di pomeriggio Allora, tu dico subito quant'è Tu dico subito Allora, tu scuola Allora, io ho quello Non c'erano E 2 Non c'erano Non c'erano Grazie. Grazie. Grazie.